... ... ... varie della partenza, prima serie le migliori, Jones, Bisbee con Fanti, Bazzoni, Wade che battaglia a subito decisa da Helen Jones in prima quando siamo ma anche Laura Wake della Gran Bretagna le corsie più esterne 200 metri al termine andiamo a seguire 150 dovrebbe essere Laura Wake provvisionemente al comando in questa prima serie con le atlete affermitate dai migliori tempi ma vediamo in prima corsia Halley Jones Gran Bretagna Halley Jones gli ultimi metri ci sono intanto dei recuperi pettorale probabilmente pettorale 42 Carabazzoni ma anche Laura scusate Halley Jones vediamo un attimino quale sarà poi il risponso ufficiale andiamo a vedere intanto 53-51 che è il tempo ufficioso 53-51 e questa è la prima serie tra poco la seconda serie con Carolina Finocchiaro Cus Palermo Caroline Kilblom